Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 22 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, potresti sentirti sopraffatto dalle tante idee e impegni che hai. Trova un po' di tempo per i sentimenti e cerca di vivere le relazioni con maggiore serenità. Sul lavoro, organizza meglio le tue attività per gestire tutte le idee che hai in mente. La fortuna ti sorride, è una giornata favorevole per prendere decisioni importanti. La luna nel fidato acquario, Giove dal buon amico segno amico dei gemelli e Venere che occupa il leone prospettano passaggi planetari felicissimi, in cui molti pianeti sono schierati a vostro completo favore. Davvero bestiale questa lunedì con la luna piena e mattinata in capricorno, opposta al sole cancerino, il solito braccio di ferro tra dovere e piacere, voglia di spaparanzarsi al sole con un libro in mano e la promessa di seguire gli amici in qualche impegnativa escursione. Più decisionisti il pomeriggio con il passaggio della Bianca Signora in acquario dove, incontrando Plutone si fa appassionale, magneticamente attratta da Venere caliente un leone, con la quale però bisticcia su tutto, mentre fila d'amore di d'accordo con Giove e Marte chiacchieroni in gemelli. Che serata ragazzi! Tutta flirt, incontri, amicizie, ma quando vi verrà a costare sia in termini di energia che di soldoni. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Toro. Cari toro, questa giornata nasce sotto buoni auspici per i sentimenti. Goditi i momenti romantici e la serenità nelle relazioni. La tua determinazione e testardaggine porteranno grandi vantaggi sul lavoro. Oggi è un buon momento per avviare nuove iniziative personali. Un cielo luminoso vi è regalato dal sole che si trova in armonico aspetto dal cancro per ancora un altro giorno. Avrà il merito di contrastare alcune negatività rafforzandovi e rendendo più chiare alcune questioni lasciate in sospeso nei giorni scorsi. Aumenta la vostra voglia di affermarvi ed emergere, grazie alla notevole positività di urano congiunto nel vostro segno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Gemelli. Cari gemelli, c'è una certa agitazione nell'aria. Cerca di mantenere la calma nelle relazioni amorose e affronta i problemi presenti con pazienza. La situazione lavorativa può essere stressante, ma affronta tutto con tranquillità. Evita decisioni affrettate, la fortuna non è dalla tua parte oggi. Lieto è lo spirito che vi anima in questo bel luglio, spirito con cui saprete riempire ogni attimo della vostra vita. Dal segno dell'acquario, dal leone e dal toro, luna, venere e urano, sono per voi propizi e determinano uno slancio irresistibile verso quel che più vi piace. E i favori della buona sorte non mancano, fornendovi l'occasione per osare, sia nella vostra attività concreta che in quella emotiva, lanciandovi in interessi nuovi dove esprimerete al meglio la vostra personalità. Vi accompagna un bel calore umano, che, a contatto delle persone a voi care, si potrà tingere di euforia. In serata qualche entusiasmo si placa, ma solo in vista di progetti ancora più ambiziosi, che curerete con l'attenzione meticolosa di chi sa di arrivare in alto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Cancro. Cari cancro, le risposte migliori stanno arrivando. Dopo un inizio mese difficile, ora puoi trovare maggiore serenità. Sul lavoro, potrebbero esserci stati dei cambiamenti, ma ora è il momento di guardare avanti. In amore, prenditi del tempo per riflettere sulle tue esigenze. La fortuna ti assiste nel trovare soluzioni ai problemi. Quadro dei transiti discreto. La vostra forma fisica, la prontezza di spirito e la capacità di sgusciare abilmente dalle situazioni, comprendendo l'aria che tira e gli stati d'animo altrui, saranno tutti gli elementi che vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Continua il transito del sole nel vostro segno, luminare che vi protegge da alti e bassi nel tono e nell'umore e da qualche dissapore in famiglia. Il sole nel vostro segno ancora per poche ore guarda negli occhi sua moglie, la luna in capricorno al plenilunio. A mettere pace tra i due gli amici urano in toro e nettuno in pesci, vale a dire genialità e ispirazione, vettori in grado di mettere d'accordo caratteri e facoltà così diverse come la logica e l'intuito. Poco avrà da aggiungere il passaggio pomeridiano della luna in acquario, dove la bianca signora toccando Plutone comunica prima con Giove e Marte in gemelli, nella vostra dodicesima casa, poi con Venere e Mercurio nel settore finanziario. In barba ai buoni consigli elargiti da ogni parte, stasera qualche sciocchezza la combinerete anche voi, spendendo esageratamente ma almeno con soddisfazione. Acquisti, locali, spettacoli, una serata d'Anna Babbi. Condannata a ridimensionarsi già domattina. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Leone. Cari Leone, il problema più concreto al momento riguarda i soldi. Hai molti progetti validi e hai bisogno di fondi importanti per realizzarli. Cerca di pianificare attentamente le tue finanze. In amore, la pazienza sarà la tua alleata. La fortuna può aiutarti a trovare nuove opportunità di finanziamento. Il quadro dei transiti planetari è discreto, specie da un punto di vista emotivo e familiare. Piccoli percorsi che possiamo definire in salita, si annunciano per via della negatività di urano, che colpisce i leoni che nascono nel mese di agosto. Il plenilugno in capricorno protagonista della mattinata ha ben poco da raccontarvi con la luna in sesta casa che vi vorrebbe impegnati col lavoro o tra incombenze personali, che fin da subito però non girano come dovrebbero. Parola del sole che le si oppone, imbronciato e impigrito dalla calura estiva. Potreste sempre sperare nel pomeriggio, se non fosse che la bianca signora, passata in acquario insieme al vostro dirimpettaio Plutone, non cambia la situazione in meglio, tutt'altro. Subito i due affrontano i vostri due inquilini Venere e Mercurio, torchiandoli con un giro di vite che tira in ballo anche Urano, contrariato allo Zenit. Attifare per voi solo la coppia Giove-Marte nei panni di amici sinceri che vi promettono aiuto e supporto incondizionato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, Attività, 7, Finanze, 7, Beneessere, 7. Vergine. Cari Vergine, questa giornata ti invita a parlare d'amore con più serenità e a goderti un'estate ricca di emozioni e buone relazioni. Sul lavoro, la comunicazione sarà la chiave per superare eventuali ostacoli. La fortuna ti accompagnerà nelle relazioni interpersonali, approfittane per creare nuovi legami. Firmamento astrale positivo in cui avrete conferme dei buoni influssi che i transiti vi inviano, in special modo sotto il profilo familiare e amichevole. Beneficati soprattutto i Vergine nati nella terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, Attività, 7, Finanze, 6, Benessere, 6. Bilancia. Cari bilancia, ritroverai energie fisiche e mentali per aprirti a nuove esperienze piacevoli. Predisponiti della maniera giusta per affrontare le sfide quotidiane. In amore, approfitta di questa energia per rafforzare i legami. La fortuna sarà dalla tua parte, sfrutta al meglio questa giornata. Cominciate oggi un cammino ideale accompagnati da una ferma sicurezza in voi stessi. Dal segno amico dei gemelli Giove continua a essere benefico per il vostro segno. Allontanate alcuni passaggi planetari faticosi, avete fatto tesoro delle esperienze vissute ora vi godete una fase di relativo benessere psicofisico. E in questo odierno fine settimana vi promette speranze di divertimento, di relax, di ricreazione benefica. E le vostre qualità migliori saranno tutte in campo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, Attività, 8, Finanze, 6, Beneessere, 7. Scorpione. Cari scorpione, mettere da parte l'orgoglio può essere la mossa giusta. Potresti essere un po' nervoso e irascibile, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, evita conflitti inutili e concentrati sugli obiettivi. In amore, cerca di essere più comprensivo. La fortuna ti aiuterà a superare i momenti di tensione. Nuovo giorno che mostra una fase fortunata e produttiva con un sereno appagamento per tutto ciò che avete fatto. Sole, Saturno e Nettuno in segni congeniali allo scorpione, rispettivamente il cancro e i pesci, vi rendono splendide le prospettive familiari e affettive. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, Attività, 6, Finanze, 9, Beneessere, 6. Sagittario. Cari Sagittario, la creatività è la tua forza oggi. Metti in mostra le tue qualità e capacità, sia a livello personale che lavorativo. In amore, esprimi liberamente i tuoi sentimenti. La fortuna sarà dalla tua parte, rendendo questa giornata ideale per nuovi progetti. Toccherà a voi saper giocare i molti jolly che, a sorpresa, quest'oggi vi capiteranno. Perché, mai come adesso, i pianeti vi mettono in mano le carte vincenti per appagare la voglia di primeggiare. Un appassionale venere in leone accompagnata ora da un felice per voi Plutone in acquario vi offrono una giornata di successi e affermazioni personali. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, Attività, 8, Finanze, 7, Beneessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, è il momento di trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. Consultarti con un amico anticonvenzionale potrebbe fornirti nuovi spunti di riflessione. In amore, sii aperto ai cambiamenti. La fortuna ti accompagnerà nel risolvere questioni risolte. Assetto planetario di questo giorno di luglio che si svela intensamente dinamico e capace di chiarire alcune questioni in vari ambiti. Ogni situazione in precedenza oscura si rasserena completamente in serata. Mattinata da protagonisti con la bianca signora installata nel vostro segno in buona amicizia con Nettuno immaginifico e con Urano geniale. Se siete in fase creativa guai a toccarvi, bisogna lasciarvi stare, quando il genio si esprime non sopporta interferenze. Di tutt'altra risma il pomeriggio con la luna che passa in acquario incontrando subito Plutone e opponendosi a Venere e Mercurio, tutti quanti conflittuali non solo tra di loro, ma anche con il contenuto delle vostre casse. Giorno davvero positivo per chi è anche oggi e al lavoro o sta godendo di cure termali o weekend benessere per rimettersi in sesto dopo un momento o no. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 8, benessere, 7. Acquario. Cari Acquario, hai molte cose da fare e sembri non sopportare più nulla e nessuno. È un periodo agitato e in amore ci sono ancora alcuni dubbi. Cerca di prendere del tempo per te stesso e rilassarti. La fortuna potrebbe non essere dalla tua parte oggi, quindi evita di prendere decisioni importanti. Si apre questo nuovo giorno del mese e vi vede in una perfetta forma psicofisica. Plutone è il vostro dio protettore e rimarrà nel vostro segno per venti lunghi anni. Se siete Acquario della prima decade, capite che certe vostre ambizioni recenti sono state eccessive, alcuni comportamenti che, negli ultimi tempi, senza accorgervene, erano stati lievemente invadenti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Pesci. Cari pesci, c'è un po' di tensione nell'aria, ma non per colpa tua. Stai affrontando diversi cambiamenti in vista dell'autunno, ma arriveranno belle soddisfazioni. La luna opposta ti rallenta, quindi meglio fare tutto con calma. Piano piano inizierai a toglierti dei sassoline dalla scarpa. In amore, sii paziente e comprensivo. La fortuna ti accompagnerà nelle piccole vittorie quotidiane. L'estate riporta più distensione in casa e per i temperamenti pescini pacifici e miti è arrivato il momento di ristorarsi e dedicarsi alle gioie del nido familiare. E, forse, così potrete anche riuscire ad acchiappare una completa contentezza. Fanno brillare genio e intelligenza le vostre stelle, provvedendo a programmare una giornata d'estate dove la vostra personalità carismatica farà scintille. Autentica bacchetta magica dei vostri successi a tutto campo, dall'attività lavorativa alla sfera intima e privata, sarà il vostro proverbiale estro, per non rendere i vostri giorni mai scontati, per allontanare definitivamente la noia dalla vostra vita. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 4. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie a tutti.